Ma come si sa i soldi dello Stato non finiscono sempre in buone mani, ci sono quelli degli appalti e oggi viene fuori quella che è la contabilità di un uomo che è stato reso noto dalle inchieste sulla cosiddetta Cricca, il costruttore Anemone. Si è scoperto proprio dalla contabilità della sua ditta, dai libri contabili, che praticamente pagava di tutto ai potenti, dalle multe, agli autisti, alle lampadine. Beh, sentiamo. Saranno inviati forse già domani dalla Procura di Perugia a quella di Roma per competenza i file delle entrate e delle uscite estratti dal computer della segretaria di Diego Anemone. 12 fogli su un totale di quasi 900 pagine che stanno facendo tremare molti. è il programma di gestione contabile con l'elenco di tutte le operazioni effettuate dal 2001 fino al dicembre 2009 da Anemone, costruttore al centro dell'inchiesta G8 Grandi Eventi. Favori in cambio di appalti pubblici, ritengono i magistrati. Favori piccoli e grandi regali e regaletti, pagamento di bollette e di multe, ristrutturazione di case, versamenti di denaro per funzionari pubblici e uomini politici. Tra i beneficiari, nomi già noti nell'inchiesta sulla cosiddetta cricca. A leggere sembra una sorta di postal market. Sedie e divani, tappeti e tendaggi, rimborsi di spese di viaggio, una lavatrice, persino un frullatore per ministro che secondo gli inquirenti sarebbe Claudio Scaiola con cui Anemone avrebbe avuto rapporti antichi. Tanto che già nel 2001 c'è una voce in uscita, un milione di lire per l'autista di Claudio Scaiola. Ancora una volta leggo notizie prive di fondamento sul mio conto. Così si difende l'ex ministro, già al centro dello scandalo, per la casa vicino al Colosseo. È una inaccettabile persecuzione, dice. Poi ci sono 7500 euro per il mosaico della piscina della villa di Angelo Balducci, i materassi della casa dell'allora ministro Lunardi e un via vai di bollette per l'abitazione di via Giulia di Guido Bertolaso, dalla CEA a Scai, tutto pagato da Anemone. L'ex numero uno della protezione civile si dichiara totalmente straneo e parla di superficialità con cui si diffondono notizie che suonano come sentenze inappellabili. Molti dei nomi e delle società contenuti nei file non sono stati ancora identificati. C'è mistero, per esempio, sull'identità di una certa signora Mancino, beneficiaria di vari assegni. Più esplicito il paragrafo degli aiuti ai prelati, come i vari prestiti a Donnevaldo o i 5000 euro nel 2006 a un certo Cisepe, che secondo i magistrati sarebbe il cardinale Sepe, già indagato per corruzione che all'epoca guidava propaganda fide. Al momento nessun nuovo indagato figura nell'inchiesta di Perugia. saranno i magistrati romani dopo aver esaminato le carte a valutare se aprire un nuovo fascicolo.